Non può andarsi a fotografare da un'altra parte, lei era da Dario, noi difendiamo la cultura, non le persone come lei, guardi lei è un'offesa in questo posto, vada a farsi fotografare da un'altra parte, chi l'ha invitata? Qual è la libertà di stampa? Lei non me ne frega ma chi se lo legge il suo libro? Io sono una rappresentante del Movem che è tra i promotori, vada a fare la pubblicità ai suoi libracci da un'altra parte, qui si protegge la cultura, non le troie come lei, ma mi denunci, la sua biografia è una denuncia, vada a farsi pubblicità da un'altra parte, fuori le escort, Vada via! Ma per favore, chi è questa? Ma se ne vada! Ma lei è una vergogna della nazione! Ma se ne vada! Non hai il coraggio di pensarla! Ma che ragazzo! Ma proprio, ma che conformismo! Tutte le foto per l'escort di Berlusconi! E cosa stiamo a fare qui in piazza? Se ne vada! Escort di merda!